Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in diretta su Telebari. In primo piano la visita di Papa Francesco, continuano le operazioni di montaggio del grande palco in corso Vittorio Emanuele e vediamo come procede. Proseguono le operazioni di montaggio del grande palco che tra una settimana ospiterà a partire dalle 10.45 in Piazza Libertà Papa Francesco per la celebrazione eucaristica prima e l'Angelus poi, evento a conclusione dell'incontro Mediterraneo Frontiera di Pace e cui parteciperanno anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Giuseppe Conte. Il capologo pugliese ospiterà 58 tra vescovi, patriarchi e cardinali provenienti da 20 paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo di tre continenti Europa, Asia e Africa. All'evento parteciperanno più di 500 preti e diaconi, 600 religiose, accreditati invece 300 giornalisti provenienti dai paesi protagonisti. 40.000 infine la stima dei fedeli che saranno presenti in corso Vittorio Emanuele che nel tratto tra via Cairole e via Andrea da Bari rimane interdetta al traffico. Intanto giunge notizia che la mitra e la veste che il Santo Padre indosserà a Bari saranno realizzate dalla Tangari Made in Italy, azienda di Corato. Il nostro ufficio stilistico, spiega l'amministratore della ditta Coratina Paolo Tangari, ha dovuto ricercare un tessuto che fosse in linea con lo stile semplice ed elegante di Papa Francesco. La veste, realizzata con un filato composto principalmente da lana e seta, avrà uno stolone ricamato con la croce, simbolo dell'evento, e tanti piccoli dettagli attorno al collo. Insomma, tutto procede senza intoppi. Per le operazioni di bonifica a lungo corso Vittorio Emanuele, lo ricordiamo, le forze dell'ordine cominceranno le operazioni a partire dalle ore 24 di sabato 22 e fino al termine delle esigenze. Questa attività prevede che l'area sia totalmente libera da persone o attività commerciali. E dalla mezzanotte di oggi ulteriori divieti di fermata su strada Palazzo dell'Intendenza tra Vico Prefettura e Vico San Domenico fino alle 24 del 25 febbraio e su Corso Senatore De Tuglio e Corso Vittorio Emanuele tra Piazzale 4 novembre e Piazza Libertà fino al 21 febbraio per il montaggio delle torri. Inoltre in vista della Santa Messa che sarà celebrata in Corso Vittorio Emanuele da Papa Francesco, domenica 23 febbraio, gli esercizi commerciali dovranno smontare gli arredi e le strutture esterne per questioni di sicurezza. Ristoranti e negozi sul lato, zona Muraden, il tratto che va da Piazza Libertà via Sparano dovranno smantellare paraventi, ombrelloni, sedie e tavoli. Quelli che si trovano invece sul lato Barivecchia dovranno rimuovere solo gli arredi urbani, sedie e tavoli esterni ai Deors Fisk. Sì. E voltiamo pagina, parliamo della crisi della Gazzetta del Mezzogiorno appesa ad un filo, tutti col fiato sospeso fino al 20, quando si pronuncerà il Tribunale, nel frattempo arriva l'appello del CDR al socio di minoranza Mainetti. Sentiamo. Presidente, l'avvertenza della Gazzetta del Mezzogiorno, ormai le ore contate, bisogna subito procedere ad un sabataggio, voi avete fatto un appello a Mainetti. Abbiamo tre giorni di tempo perché sostanzialmente il 20 febbraio il giudice della sezione fallimentare si dovrà esprimere sul concordato preventivo che l'AE di Sud aveva annunciato di voler richiedere. Nei giorni scorsi ci hanno detto che è stata ritirata questa richiesta e di conseguenza tra tre giorni il Tribunale di Bari si potrebbe esprimere per il fallimento della Gazzetta. Di qui il nostro appello al socio di minoranza Mainetti perché ci dica una volta per tutte se intende investire in questo giornale come aveva annunciato, rilevare le quote di maggioranza che come è noto sono sotto sequestro perché appartengono all'editore Ciancio Sanfilippo che è ancora sotto una procedura penale giudiziaria nel Tribunale di Catania e portare avanti il giornale. Diversamente non potremmo far altro che fermarci dopo aver passato un anno e mezzo a far uscire il giornale ogni giorno, a scriverlo, a dare informazioni ai cittadini in alcuni mesi senza neanche percepire lo stipendio. Passiamo alla cronaca. Avrebbe molestato una ragazza di 20 anni sul treno Bari-Barletta. Per questo motivo un uomo senza fissa dimora rintracciato sul lungomare di Barletta è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo di nazionalità marocchine, con alcuni precedenti, aveva anche violato l'ordine di allontanarsi dall'Italia che il questore di Bari l'aveva imposto a ottobre del 2019. La giovane vittima ha denunciato subito l'accaduto alla polizia ferroviaria che ha avviato le indagini per identificare il responsabile dell'aggressione. L'uomo individuato, mentre era in compagnia di altri connazionali, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Trani. La procura di Bari ha disposto l'autopsia sul corpo di Giulia Mininni, la 48enne barese deceduta l'8 febbraio dopo essere arrivata al Policlinico di Bari in condizioni di arresto cardiorespiratorio. Il PM grazie a rede giovedì pomeriggio conferirà l'incarico per l'autopsia al medico legale Antonio Caruso. Al momento la procura ha ipotizzato il reato di omicidio colposo a carico di ignoti stando alla denuncia dei familiari. La donna la settimana prima del decesso si sarebbe rivolta per un mal di gola al proprio medico di famiglia, alla guardia medica e per tre volte al 118. Proprio responsabile del 118 nei giorni scorsi ha spiegato che durante i primi due interventi a domicilio dei soccorritori sono stati gli stessi familiari a rifiutare il trasporto in ospedale. Durante il terzo intervento invece la paziente ormai in arresto cardiaco è stata condotta al pronto soccorso del Policlinico dove sono proseguite le manovre aeree animatorie cominciate in ambulanza, ma è stato subito dopo dichiarato il decesso. Sarà ora l'esito della perizia medico-legale ad accertare eventuali responsabilità dei medici. Siamo alla sanità, il 2019 è stato l'anno record per i trapianti. I risultati sono stati discussi ieri al Teatro Piccini in una grande giornata dedicata alla donazione. 71 trapianti di rene, 23 di fegato e 6 di cuore, un totale di 103 nel 2019. È stato un anno record per i trapianti in Puglia, il migliore da 15 anni. Il punto sulla situazione è stato fatto al Teatro Piccini in occasione dell'incontro tra le associazioni dei donatori e le istituzioni sanitarie regionali. Chi dona vive due volte il titolo dell'iniziativa organizzata anche per sensibilizzare maggiormente la gente a esprimere il proprio assenso. Il coordinatore regionale del centro trapianti, Loreto Gesualdo, solo pochi giorni fa aveva sottolineato che questo risultato è stato possibile grazie ad una riduzione del tasso di opposizioni che dal 52% del 2018 è passato al 43% nel 2019. Un dato però ancora ben lontano da quello del nord che viaggia a una media del 30%. Raggiungere questo livello significherebbe portare il numero dei trapianti da 100 a 150. Tra gli ospiti presenti al Piccini anche personalità dello spettacolo e dello sport che hanno dato eco al messaggio della giornata, tra questi l'ex attaccante del Bari Igor Protti, cittadino onorario del capoluogo che dal palco del Piccini si è unito all'appello a iscriversi nelle liste dei donatori. Io vengo da un mondo particolare dove a volte per una partita vinta o al fatto veniamo trattati come degli idoli, veniamo osannati e io credo che se c'è qualcuno che merita tutto questo sono le persone che quotidianamente lavorano per tutto questo, i professori, i medici, le loro equipe. Villa Silos, storico edificio di Bitonto da anni in stato di abbandono è stato riqualificato con un investimento di circa 2 milioni di euro e trasformato nella prima cittadella del bambino della provincia di Bari. L'inaugurazione è venuta questa mattina alla presenza del sindaco di Bitonto Michele Abaticchio, del sindaco della città metropolitana di Bari Antonio De Caro e del consigliere regionale Bitontino Domenico Damascelli. Il recupero si legge in una nota è stato possibile grazie all'utilizzo dei fondi statali relativi al Bando Nazionale Periferia Aperte. La struttura è stata affidata al Consorzio Sociale Lab fondato da cooperative sociali attivo dal 2013 con l'obiettivo di creare un luogo di aggregazione dove poter accogliere i minori e le loro famiglie. Lo skatepark in costruzione sotto il ponte adriatico prende forma. Questa mattina il sopralluogo dell'assessore Pietro Petruzzelli. Proseguono i lavori per la realizzazione del playground sotto il ponte adriatico suddiviso in due aree distinte a skatepark da 800 metri quadri e al gioco del basket da 610. L'area con le prime colate di cemento comincia quindi a prendere forma questa mattina e il sopralluogo dell'assessore allo sport Pietro Petruzzelli. Stanno realizzando la platea di fondazione di quelle che saranno poi le rampe e infatti si vede anche dalle sagome disegnate dai pali di ferro di come saranno poi le rampe poi ci sarà il riempimento e alla fine il dettaglio finale della rampa. Ricorderete, questo non abbiamo voluto mettere delle strutture prefabbricate qui perché sono quelle realizzate in opera qui direttamente sul cantiere hanno dei disegni più performanti e quindi sono maggiormente apprezzati da coloro i quali utilizzano gli skatepark. Il costo complessivo dei lavori lo ricordiamo, ammonta 170.000 euro nell'area sotto il ponte sorgeranno un nuovo campo da pallacanestro con due canestri posizionati spalla a spalla per partite da 3 conto 3 recinzione di protezione e una zona dedicata interamente allo skateboard attraverso la posa in opera di cemento senza l'impiego di strutture prefabbricate a garanzia di configurazioni il più possibile performanti per quanti amano questa disciplina. E dopo la vittoria al Festival di Sanremo nelle nuove proposte Leo Gasman questo pomeriggio ha incontrato i fan alla Feltrinelli di Bari per presentare il suo primo disco Strike e noi lo abbiamo intervistato. Vincitore delle nuove proposte della settantesima edizione del Festival di Sanremo com'è stata l'esperienza sul palco dell'Ariston? È stata un'esperienza incredibile comunque per noi ragazzi è un'emozione ancora più forte perché è proprio un esordio incredibile e sono felice di come sia andata e di quello che sta succedendo in queste settimane e sono felice che comunque la canzone di Sanremo sia piaciuta e sia arrivata ai cuori di varie persone varie tipologie di persone ed è per me molto importante perché comunque significa che sono sulla strada giusta e che sto regalando emozioni a un po' di persone e che questa è la cosa più bella. Prima della partecipazione al Festival la partecipazione ad X Factor Quella è stata un'esperienza di crescita sono cresciuto tanto ho imparato tante cose ho imparato a stare su un palco grande come quelli che poi ho vissuto da vicino ed è stata sicuramente una scuola di musica per me io l'ho vista così sono felice di aver partecipato a quell'edizione sono felice di quello che è successo un paio di settimane fa e sono felice di quello che accadrà perché comunque per me è importante sempre migliorarmi e crescere ogni giorno di più. I prossimi progetti sicuramente un tour in giro per l'Italia dove suonerò con la mia band e tanta buona musica. E si è conclusa ieri pomeriggio l'edizione 2020 del FIP Star Kendro il torneo internazionale di padel organizzato da Pasquale De Ruvo nel Palacendro di Trigiano entrata nel vivo giovedì 13 con l'esibizione dei campioni Juan Martin Diaz e Willy Laos la gara ha visto sfidarsi durante le quattro giornate 120 coppie di giocatori di padel provenienti da diversi paesi d'Europa sul podio per il torneo maschile la coppia composta da Dennis Thomas Perrigno giocatore di padel argentino e dallo spagnolo Christian Fuster che ha battuto la squadra avversaria con un punteggio di 6-4, 6-7, 4-6 e se così ha giudicato il premio di 6.000 euro al primo posto nella competizione femminile invece la coppia spagnola composta da Anna Corties Tappie e Jessica Castello Lopez che nella sfida decisiva ha superato la coppia avversaria con un punteggio di 7-5, 7-6 e ha ricevuto il premio di 4.200 euro un grande successo dunque per il pala Kendro di Trigiano che dal 20 al 26 aprile ospiterà una tappa del circuito slam il più importante circuito di padel su scala nazionale e noi ci fermiamo per qualche istante ma torniamo tra pochissimo con altre notizie e rieccoci in diretta con l'edizione sarale del nostro telegiornale ripartiamo subito dal PSR nuova polemica sui fondi per l'agricoltura questa volta l'ex assessore a chiedere l'annullamento degli atti pubblicati successivamente alle sue dimissioni il tutto mentre viene pubblicata la graduatoria ho trasmesso all'autorità di gestione per conoscenza alla GEA la richiesta di Revo che in autotutela degli atti emanati in conseguenza della determina 230 del 2019 dell'autorità di gestione della circolare interpretativa sul DURC al fine di ristabilire il principio di chiarezza trasparenza e conseguenzialità degli atti rispetto al bando del PSR a lanciare l'ultima bomba sul programma di sviluppo rurale il piano che distribuisce i fondi europei per l'agricoltura è l'ex assessore Leonardo Di Gioia che in una nota annuncia di aver chiesto un intervento sugli atti successivi a una determina dello scorso luglio per intenderci quella emessa immediatamente dopo le sue seconde dimissioni quando il governatore Michele Emiliano subentrò al consigliere Foggia in uno dei bandi il secondo relativo alla sottomisura 4.1a relativa a investimenti materiali e materiali finalizzati a migliorare reddittività competitività e sostenibilità delle aziende agricole viene annullato spostando risorse per 35 milioni di euro sul primo bando dove già ne erano state destinate 120 stiamo cercando di concentrare tutto su un unico bando in modo tale da poter chiedere un passo indietro a coloro che stanno pensando di impugnare l'avviso nuovamente davanti al consiglio di stato dopo che la regione ha avuto ragione nel contenzioso davanti al tardi Bari aveva spiegato Emiliano a luglio il problema è che per semplificare le cose a seguito di quella determina vengono fatte scelte contestate da molti attori per esempio sulla verifica della cantieriabilità e della bancabilità con gravi storture sulla scelta dei progetti e proprio a questi aspetti farebbe riferimento di gioia con la sua nuota intanto proprio in questi giorni è stata pubblicata la graduatoria per la sottomisura 4.2 quella per il sostegno agli investimenti per la trasformazione la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli anche in questo caso è stato utilizzato l'indice di performance economica uno strumento individuato per scegliere i migliori progetti contestatissimo dai tecnici probabile che anche qui dove la dotazione di circa 90 milioni potrebbero nascere nuove polemiche la gazzetta del mezzogiorno ha pesato un filo tutti col fiato sospeso fino al 20 quando si pronuncerà il tribunale e nel frattempo arriva l'appello dal CDR al socio di minoranza Mainetti sentiamo Presidente l'avvertenza della gazzetta del mezzogiorno ormai le ore contate bisogna subito procedere ad un sabataggio voi avete fatto un appello a Mainetti abbiamo tre giorni di tempo perché sostanzialmente il 20 febbraio il giudice della sezione fallimentare si dovrà esprimere sul concordato preventivo che l'AE di Sud aveva annunciato di voler richiedere nei giorni scorsi ci hanno detto che è stata ritirata questa richiesta e di conseguenza tra tre giorni il tribunale di Bari si potrebbe esprimere per il fallimento della gazzetta di cui il nostro appello al socio di minoranza Mainetti perché ci dica una volta per tutte si intende investire in questo giornale come aveva annunciato rilevare le quote di maggioranza che come è noto sono sotto sequestro perché appartengono all'editore Ciancio Sanfilippo che è ancora sotto una procedura penale giudiziaria nel tribunale di Catania e portare avanti il giornale diversamente non potremo far altro che fermarci dopo aver passato un anno e mezzo a far uscire il giornale ogni giorno a scriverlo a dare informazione ai cittadini in alcuni mesi senza neanche percepire lo stipendio si erano dati appuntamento in via Conenna strada non trafficata del quartiere Sant'Anna per girare un videoclip musicale in cui veniva simulato l'assalto a un furgone portavalori pistole finte passamontagna ma nessuna autorizzazione così sul posto sono intervenuti i carabinieri hanno bloccato le riprese i militari hanno sequestrato tutto il materiale e notiziato l'autorità giudiziaria ipotizzando il reato di stigazione a commettere un delitto i due protagonisti della vicenda entrambi i baresi sono un cantante neomelodico e un rapper la scena da loro costruita ha portato i carabinieri a trovarsi di fronte a un furgone portavalore affiancato da due auto e due moto tutti intorno però c'erano 15 persone il regista del video che sarebbe stato pubblicato su youtube in un'auto i militari hanno trovato anche tre pistole giocattolo prive di tappo rosso e un drone per le riprese sotto sequestro oltre al materiale utilizzato per la realizzazione del video sono finiti anche i veicoli lo stadio di Valenzano intitolato a Vito Sante Miolla difensore del grande teorino che per una pleurite non era presente su quel maledetto aereo oggi il ricordo nell'aula consigliare del comune di Valenzano alla presenza del sindaco Gian Paolo Romanazzi dell'assessore Nicola Favia del presidente onorario della UEFA Antonio Matarrese di tutti i suoi familiari compreso suo fratello sentiamo come lo chiamavano gli amici? Santino Lui è scampato la tragedia del grande Torino perché non era su quell'aereo? Mio fratello è andato al Torino nell'anno calcistico 47-48 non aveva ancora 19 anni allora il Torino decise per farlo giocare di darlo in prestito all'anno successivo 48-49 al Piombino verso febbraio si ammalò ebbe la pleurite e allora lo rimandarono a casa per riprendersi e lui a fine campionato doveva andare in torne con il Torino aveva avuto questa benedetta pleurite stava a casa in quel periodo ecco Lui naturalmente andò a trovare quando ci furono i funerali fu presente stava naturalmente secondo me per il fatto di essersi salvato e quindi però naturalmente la morte dei suoi compagni lui stava con Valentino Mazzuolo Marossi quanto è importante per voi che oggi lo stadio comunale di Valenzano si è intitolato a lui sono emozionatissimo naturalmente perché ricordare la figura di mio fratello leggendo poi che io ero appassionato leggevo le cronache quando nelle squadre dove giocava noi vi lasciamo all'appuntamento con Chiama De Caro in studio con Alessandra Bucci il primo cittadino Antonio De Caro potrete interagire con noi anche attraverso la diretta Facebook sulla nostra pagina per questa edizione del telegiornale invece è tutto buona serata Il meteo è offerto da ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo martedì possiamo notare come un campo di alta pressione sarà molto vicino all'Italia solo un po' di infiltrazioni umide causeranno qualche isolato fenomeno su parte del nord-est e soprattutto Liguria alta toscana con le macchioline blu succede poco invece al centro-sud da sempre primavera guardiamo la prossima grafica difatti ancora della variabilità di passaggio al nord qualcosina anche al centro-sud qualche nubia regolare ma è un contesto di clima più solleggiato per quanto riguarda il nord nubia a tratti compatte guardiamo la prossima grafica e qualche blando fenomeno l'abbiamo segnalato sull'estremo nord-est Liguria parte di Toscana però niente di che inizia poi a rasserenare in giornata al nord-ovest con ritorno man mano del sole variabilità a tratti al centro-sud ma guardate anche sole e temperature che proprio sulle due isole maggiori potrebbero raggiungere i 20 gradi ma così come anche sulla Puglia seguite tutti gli aggiornamenti scaricando l'app di Trevi Meteo Il Meteo è offerto da SGServiceSud.it